ciao eccomi qui in un posto veramente magico ormai lo sai che sono a gran canaria ti faccio vedere sono venuta a fare una bella gita in montagna che per il mio compleanno mi sembra un regalo degno visto che adoro anche la montagna guarda che meraviglia perché è importante celebrare il compleanno non si tratta tanto di fare una festa o di festeggiare in un modo classico quello che è importante celebrare è il fatto che il compleanno il giorno in cui tu sei nato il cui tu sei venuto al mondo e quindi celebrare il compleanno è un po come celebrare la vita l'esistenza rendere onore alla tua esistenza ed è un giorno in cui è importante che tu ti ricordi di essere qui e di essere qui magari anche con uno scopo non sei venuto qui diciamo per pettinare le bambole che è uno dei modi che mi piace sempre nominare perché ti fa proprio rendere l'idea non sei venuto qui per far niente sei venuto qui con un senso qui tra l'altro sentite un organetto che c'è un signore che suona per i turisti e tu sei venuto qui con un senso è il giorno del tuo compleanno il giorno che tu hai scelto per manifestarti qui sulla terra ed è importante da celebrare proprio per quello per dire grazie per renderti conto che tu sei qui per una scelta e sei qui proprio per rendere la tua vita degna di essere vissuta e ogni anno che tu vivi è un pezzo in più che tu vai aggiungere nel tuo storico ed è comunque un anno in meno che ti manca da lasciare il corpo quindi questa cosa qui non è una cosa triste una cosa che è importante ricordare perché nel momento in cui tu te ne ricordi tra l'altro parlare di morte con l'organetto che suona fa veramente ridere quindi è stupendo parlare parlare di questo ti serve semplicemente ricordarti che tu non sei qui per un tempo infinito sei qui per fare delle cose un giorno te ne andrai quindi ricordati di non rimandare in eterno ma di fare oggi quello che puoi fare oggi e di farlo magari anche ieri di farlo col cuore e di farlo sentendoti ti abbraccio e ti auguro una bellissima e meravigliosa giornata onorala anche tu non tanto perché il mio compleanno ma perché una nuova giornata per te ciao